L'andatura non è certo da Giro d'Italia, ma del resto lo scopo di questi corridori non è vincere, ma sensibilizzare opinioni pubbliche e istituzioni a tutelare e valorizzare i tratturi. Una vera e propria transumanza su due ruote che ha coinvolto 100 appassionati provenienti da tutta Italia, 4 giorni di cammino e 350 km da percorrere partendo da Ortanova, in provincia di Foggia, con destinazione Valle Longa, in Abruzzo. Oggi la partenza dalla tappa intermedia che da Lucera li ha portati a Campobasso, prossima destinazione Castel di Sangro. L'iniziativa si chiama Tour Bike della Transumanza ed è promossa dall'associazione Valle Longa Bike. L'obiettivo intanto è quello di ripercorrere i vecchi tratturi dove nel passato appunto transitavano pecore e uomini, ora passiamo noi, proprio con l'obiettivo di riscoprire queste bellezze paesaggistiche, ma non soltanto, quindi la nostra manifestazione non ha la caratteristica soltanto sportiva, ma anche l'ambizione di avere queste altre caratteristiche di tipo culturale e naturalistico. I partecipanti vengono da tutte le parti d'Italia, noi per ragioni logistiche manteniamo fino a 100 il numero dei partecipanti, ma abbiamo veramente tante richieste e questo in un certo qual modo ci conforta sulla bontà della nostra iniziativa.